Controlli straordinari a Trani da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del commisariato locale hanno intensificato nell'ultimo weekend, così come nelle recenti settimane, la loro azione nelle vie centrali cittadine frequentati da tanti giovani, dove si registra in diversi punti lo spaccio di sostanze stupefacenti. 60 i soggetti sottoposti da certamenti, di cui 10 pregiudicati e 10 autovetture in una delle piazze centrali, sono stati identificati tre soggetti pregiudicati, tra cui uno proveniente dalla regione Lombardia, con reati specifici in materia di spaccio di droga. Per quest'ultimo è scattato il divieto di ritorno nel comune di Trani, effettuati anche sette sequestri amministrativi di autovetture nel corso degli ultimi giorni per mancata copertura sicurativa ed un fermo amministrativo di 90 giorni per un'auto sprovvista di revisione. In totale oltre 9.000 euro di sanzioni per violazione del codice della strada e due persone denunciate a piede libero per lesioni stradali. Nel corso dei controlli, infine, è stata recuperata una refurtiva proveniente da un furto perpetrato in un'abitazione diversi giorni fa, sempre a Trani.